E questo è un applauso meritato per il nuovo sindaco di Pianella, Taddeo Manella. All'amore per Pianella è il nome della lista, ma qual è il vero amore per Pianella? L'amore per Pianella è ridare la centralità ai cittadini in questo paese. Dopo tanti anni è importante riportare una pacificazione, una serenità nei rapporti, promuovere i rapporti umani anche prima di tutte le opere pubbliche, pur necessarie. L'amministrazione precedente ha fatto bene, noi dobbiamo continuare in un discorso di discontinuità nei rapporti. Centralizzare e far ritornare l'interesse primario dei cittadini, quando dico rapporti umani cosa significa? Significa ridare voce ad ascoltare la gente, veramente cosa è necessario? Un po' ritornare al passo di chi è rimasto indietro. E' fondamentale quindi ritornare ai servizi sociali, è necessario ritornare a dei rapporti dialettici fra la gente perché il paese possa ancora crescere, siamo fortunati di essere a ridosso di Pescara e di guidare in una zona che riesce a mantenere una popolazione e una residenzialità. E' importante che ridiamo un senso civico vero a questa gente. Pianella, Cioratina e Castellana, un unico territorio dell'area vestina con tre vocazioni distinte e separate? Sì, sono tre comunità, un unico paese, vogliamo che queste comunità interagiscano di più fra di loro anche se sono territori particolari. Cioratina è a ridosso di Chieti, Castellana è una via di mezzo, Pianella è a 10-15 minuti con la bretella da Pescara, ma hanno dei territori molto importanti, evocati ognuno per una specificità. Quindi studiare quando possono dare, quando possono svilupparsi in ogni settore e dare l'ottimizzazione in questo senso. Turismo, agricoltura e industria potremmo dire? Turismo fondamentale. Turismo, abbiamo delle colline bellissime, zone San Desiderio, Nora, Colli Cinciero e tante altre zone in cui veramente poter portare le persone anche dal Pescarese a camminare. Non abbiamo nulla da invidiare alla Toscana o all'Umbria, quindi bisogna mappare questi sentieri agroturistici e portare la gente qui perché non è soltanto il paesaggio, ma sono anche i prodotti locali, il buon vino, l'olio ma soprattutto i prodotti agricoli di ogni genere. È importante che questo sia l'elemento primario perché il turismo si possa sviluppare. Di professione, un avvocato del Foro di Pescara ha costruito questa lista molto ampia con tanti componenti di destra e di sinistra, quindi una lista allargata. Ha già un'idea di quello che sarà il criterio della formazione della squadra, della Giunta? Certo, è una squadra molto forte, infatti io sono una sintesi, io 60 giorni orsono non ero, diciamo, pensavo di essere sindaco oggi. Sono stato sintesi di queste forze, persone, forze politiche e territori. Sono riuscito a dare questo amalgamo, un pater familias, diciamo così. Il mio scopo, il mio obiettivo è quello poi di rimettere le forze in campo una volta pacificati la cittadinanza, perché la cittadinanza ha bisogno veramente di una pacificazione. Il suo messaggio da rivolgere come primo cittadino ai suoi concittadini? Certo, concludo la domanda precedente dicendo che tutto questo è importante perché Pianella deve tornare a contare sui tavoli provinciali, regionali e nazionali. Ai miei cittadini dico che, come ho detto dall'inizio di questa campagna elettorale, ma loro lo sanno perché infatti non mi chiamano né avvocato né sindaco, ma mi hanno sempre chiamato, nemmeno Taddeo, ma mi hanno sempre chiamato Teddy. Questo significa che è il nome in cui mi chiama la mia famiglia. Sono uno della gente, voglio essere il sindaco della gente, un sindaco per la gente, ma soprattutto un sindaco in mezzo alla gente. Uno dei primi obiettivi è quello di andare a trovare le famiglie una volta a settimana. Questo sta a significare che veramente voglio ascoltare tutti a casa loro e non alla porta dell'ufficio del sindaco. In bocca al lupo. Grazie. 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 Grazie.